Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di GTA 5 Online Allora ragazzi noi siamo tornati con diventiamo ricchi su GTA Online Ora sono in casa mia perchè mi devo cambiare vestito, mi voglio cambiare vestito perchè questo qua ce l'ho da un fucking secolo Piumino sfumato figo, ragazzi è figo ragazzi se è figo cioè già ci dobbiamo fidare Seleziona e andiamo via Ragazzi sono fogato perchè dobbiamo andare a vendere le fottutissime car Allora prendiamo la turismo Prendiamo la turismo che è una macchina bellissima e usciamo Allora ragazzi Dove si vendono le auto? Questo qua, questo è il garage Si Non so perchè ma forse secondo me non è questa Eh che infatti non è questa Raga questo è il mio garage Io non volevo prendere questo Vabbè con la scusa cambiamo l'auto Prendiamo Prendiamo questa va Magazzino Ah no 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 ragazzi è questo qua Magazzino veicoli Bene La mia auto è molto bella Le persone rompono le palle Ora Proviamo Proviamo a esportare un'auto Senza che mi fanno saltare in aria possibilmente Allora Per ora voglio Una di fascia bassa Perché Se noi esporta Devi prima selezionare E' certo Allora Facciamo Esportiamo Una fascia alta Media Alta media Facciamola bassa intanto 15.000 dollari Esporta Non so che fare Vi giuro Allora Facciamo una cosa Proviamo a fare il privato Dai Allora Questa qua Era la sbestia Che abbiamo recuperato Nello scorso video Devo fare 5 km Ci sono 25 persone In questo maledetto server Sessione Scusate Valore di mercato totale Compenso Tempo per consegno Devo consegnarlo in 14 minuti Vabbè 14 minuti It's easy Solamente che Vi bisogna vedere Se le persone Non mi rompono le palle Però Vedo che mi sa Che mi sto allontanando Molto Ecco qua Raga Raga E' veloce Sa cazzo di macchina Ma un po' più lenta No eh 14.373 Ancora vale Ancora vale Dai Ok Dovremmo essere quasi arrivati Un chilometro Settecento Poi ritagliare la strada Raga Per ritagliare Anche perché potevo Aspetta Aspetta Ma se io scendo di qua Vabbè Allora andiamo piano Ok GG GG 627 dollari 14.000 dollari in più Saliamo di rango Siamo fortissimi Ok 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 Allora Facciamoci portare la La vortex Volevo dire Non la velox Eccolo Ragazzi siamo primi Ragazzi siamo primi Ragazzi siamo primi Ragazzi siamo primi Ragazzi la vinco La vinco Ragazzi Sono primo Ormai non mi possono più Per vedere Dai non mi superate 79.000 Eh sì Sto cazzo Ormai l'ho perso Ragazzi Ormai l'ho perso Si è arrivato terzo No ragazzi Si è arrivato terzo No Non me la dovete fare questa Vabbè Allora Abbiamo consegnato La prima auto Ora Consegniamo la seconda Che non aver atturato Un acquirante Per il tuo via Ah ok Ah 12 minuti Ok 12 minuti Ok 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 Allora ragazzi Andiamo Nell'altro magazzino A prendere un po' di scorte Allora Dobbiamo andare qua No Entra 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 Muoviti Entra in ufficio Dai 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 Carico speciale Vai 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 Mappa magazzini Vai No Devo solamente acquistare Vabbè Allora lo acquistiamo Vai 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 18.000 Vai vai 400 metri Raga Easy Però 18.000 Per L'ingotto d'oro Secondo me Sono pure Troppo Pochi Dove devo andare Ragazzi Dove devo andare Eccolo Eccolo L'ho visto Furgone 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 Dai che non mi rompe le palle nessuno E vince Attenzione Le sghere Ok raga Abbiamo consegnato Questa cosa Vediamo cosa possiamo fare Dobbiamo Vendere Se non sbaglio Vendere Sì però se non me lo fa fare Allora Vendi Sì Noi vendiamo E vabbè ragazzi Allora noi Per questo video È tutto Io Spero che vi sia piaciuto Credo di no Spero che vi sia piaciuto Lasciate un like Scrivetevi Commentate Bella a tutti ragazzi Spero che vi sia piaciuto